Salve squisiti, sono Mare Puccioni, fondatore di Centurio in Jiu Jitsu e oggi l'argomento di cui voglio parlare è uno molto ricorrente per quanto riguarda insegnanti, maestri, istruttori e appassionati di Jiu Jitsu. È utile integrare Jiu Jitsu con la pratica di altre discipline? E se sì, quale discipline? Alle volte addirittura la domanda viene posta con è indispensabile integrare Jiu Jitsu con altre discipline? La risposta è dipende. Se la domanda non è chiara la risposta sarà generica e quindi in questo caso la risposta è dipende. Il Jiu Jitsu brasiliano ha dimostrato negli ultimi cento anni la sua validità nel combattimento reale in una miriade di contesti, da quelli dei vecchi valetudo brasiliani, ma anche le sfide dei Jiu Jitsu giapponesi che hanno portato alla nascita del Jiu Jitsu brasiliano e che sono state reste celebri nella letteratura, le troviamo descritte in libri di grandi e famosi scrittori europei della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Fino ad oggi allo sport da combattimento più probante, per eccellenza le MMA, che sono nate per l'appunto da una reinterpretazione in senso più sportivo del valetudo brasiliano. Il Jiu Jitsu quindi ha dimostrato di essere efficiente più di qualunque altra arte marziale testata sul campo, tanto è vero che all'inizio della storia dell'MMA il Jiu Jitsu grazie per lo più, il Jiu Jitsu preso come singolo stile e non meticciato con nient'altro, ha avuto vita facile contro la maggior parte degli stili allora in voga. Senza voler fare polemiche quindi il Jiu Jitsu brasiliano, si sa, chiunque oramai nel 2016 ha sentito nominare questo stile per la sua efficacia e questa sua grandissima efficacia è il combattimento con l'Olarry su celeberrimo e nel giro di pochi anni si è diffuso in tutto il pianeta e subendo solo da negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, una involuzione di tipo puramente sportivo. Un grandissimo progresso nella creazione di atleti ma una involuzione nel senso che la sportivizzazione pura come sempre toglie efficacia dal combattimento. Ma questo è un altro discorso che si potrebbe stare ore e ore a parlare. Quindi è utile integrare il Jiu Jitsu? Dipende. È indispensabile integrare il Jiu Jitsu? Dipende. Delle volte può essere indispensabile. Faccio un esempio. Un lottatore semiprofessionista di MMA che voglia diventare professionista. abbiamo una persona fortissima a fare Jiu Jitsu che i suoi primi match se li vince facilmente trascinando in un lampo gli avversari a terra mettendo in una posizione dominante e spacciandole lì. In seguito questa sua monopreparazione, questa preparazione monodimensionale del Jiu Jitsu non gli potrà più bastare. Quindi sarà indispensabile per lui integrare. Perché la preparazione della MMA è basata su quattro pilastri. Quattro diverse arti da me dette magiche perché ognuna è meravigliosa e splendida nella sua specializzazione. Il Jiu Jitsu brasiliano, la lotta olimpica, il pugilato e la kickboxing. O Muay Thai nella versione thailandese per meglio dire. Per questa persona, per questo giovane aitante, atleta, sarà indispensabile, sarà necessario integrare il Jiu Jitsu con altre discipline. Altrimenti nell' MMA va avanti poco. Per non dire niente. Se stiamo parlando di professionismo, il professionista fa tutto quello che la sua professione richiede. Nel caso di un professionista di MMA, c'è l'allenamento su perlomeno quattro filoni portanti, senza escludere la preparazione fisica specializzata, eccetera, eccetera. Se una persona mi chiede, ma è indispensabile integrare il Jiu Jitsu brasiliano con un'altra disciplina per l'efficacia da strada, cioè per la difesa personale o autoprotezione per meglio dire? E ovviamente no, perché il Jiu Jitsu brasiliano più di tutte le altre discipline realistiche, per non parlare di quelle irreale, di fantasia o folcloristiche, ha dimostrato la sua efficacia nel rispondere al problema fondamentale delle arti marziali. Come può il piccolo battere il grande? Non ricordo, mi toccherà dirlo a tutti i video, se io prendo un giovanotto talentuoso, alto, muscoloso, forte, con la castagna, bella potente, ebbene, a questa persona gli funziona qualunque stile, anche la gara di schiaffi gallurese. Il Jiu Jitsu brasiliano risponde al problema fondamentale delle arti marziali, cioè di rendere efficace il combattimento contro una persona grossa e aggressiva, anche una persona che a sua volta non ha queste caratteristiche. Il Jiu Jitsu brasiliano non ha più nulla da dimostrare, perché è l'arte marziale più, virgolette, dimostrata dell'universo, del sistema solare. Ma anche qui la domanda è generica, è utile integrare, dipende di chi stiamo parlando, della Gioner Rossi che va a fare Jiu Jitsu ogni tanto due o tre volte a settimana, e già tanto se va a quelle due o tre sere lì, fa degli allenamenti modesti, non fa preparazione, cioè ha pochissimo tempo e la sua vita, la sua struttura della giornata gli consentono di essere ben poco presente anche al normale corso amatoriale di Jiu Jitsu. Per questa persona distogliersi dal Jiu Jitsu, quel poco Jiu Jitsu che fa, che abbiamo, ripeto, è l'arte marziale sicuramente più testata e più efficace come dimostrazione sul campo, è un fallimento, già riesce a fare male quelle due o tre volte a settimana, quindi il sei meno meno di un praticante. Viceversa abbiamo un giovane, con un sacco di tempo a disposizione, nel senso che la casa è una famiglia da mandare avanti, probabilmente disoccupato o studente, e costui si allena circa due volte al giorno nel Jiu Jitsu brasiliano. Fa anche un po' di pesi, comunque va a correre. Ebbene, per questa persona, che quindi stiamo deleando come un agonista, uno interessato a primeggiare nello sport, per questa persona è sicuramente utile integrare Jiu Jitsu con altre cose, a cominciare da una valida preparazione fisica funzionale, che è l'argomento che ho già affrontato, ho già spiegato la differenza tra preparazione fisica e bodybuilding o cosmesi della muscolatura in un video e gli esercizi più importanti da eseguire per aumentare la forza, che è la qualità base della preparazione fisica in un altro video. Questa persona sicuramente dovrebbe al 100% avere una scheda di preparazione professionale ad affiancare al suo Jiu Jitsu. Oltre a questo potrebbe essere utile, a seconda dei casi, e bisognerebbe vedere che tipo di corso e corsi segue in palestra questo aspirante campione di Jiu Jitsu potrebbe essere utile sia l'integrazione dell'otta olimpica in particolare allo stile libero, sia il Judo, ma se amministrati e somministrati con il criterio che è difficissimo da trovare, cioè rendere l'allenamento in questi due sport diversi dal Jiu Jitsu più adattabile a quelle che sono le esigenze del lottatore di Jiu Jitsu brasiliano. Io in particolare, molti lo sanno, sono un fan della lotta olimpica, se tornassi indietro nel tempo e potessi iniziare uno sport da ragazzino, invece di buttare gli anni in tutte le arti tradizionaliste, sicuramente nella Firenze degli anni 70, io mi iscriverei a fare lotta greco-romana, ma che è libera a Firenze non esisteva neanche. Detto questo, ripeto, trovando il maestro versatile, è una cosa difficilissima, quasi impossibile, che capisce le esigenze del Jiu Jitsu che sono le stesse dell'agonista di greco-romana, è libera, eccetera, e lo stesso nel Judo, cosa ancora più mirabile a trovarsi, ebbene, un allenamento per la maggior parte delle persone sulle proiezioni corrobora e integra ottivamente quello di Jiu Jitsu, dove la parte in piedi è sicuramente meno sviluppata e meno tecnica di questi due sport. Devo dire che per molte accademie di Jiu Jitsu brasiliano, almeno in Italia, ma non solo, sarebbe veramente duopo affiancare uno sport di lotta in piedi al Jiu Jitsu brasiliano, perché nelle loro accademie colpevolmente i loro insegnanti non insegnano la lotta in piedi, non la praticano quasi mai. Nella mia accademia si fa lotta in piedi a tutti gli allenamenti, certo non c'è il livello tecnico né il livello agonistico di un corso rivolto solo alla lotta in piedi di ottimo livello, che si può trovare nella lotta olimpica o nel Judo o magari nel Sambo, se uno ha la fortuna di trovare una palestra di livello di questi sport. Lo striking, le percussioni. È utile, di nuovo si ritorna al discorso dei ragionieri rossi di prima, certo una persona che sia così dotata di tempo e di danari, sufficiente per integrare nella maniera giusta il Jiu Jitsu con lo striking, raggiungerà un livello di preparazione migliore per quanto riguarda certi aspetti del combattimento reale. Per un agonista di giudizio è del tutto inutile lo striking. Per quanto riguarda il professionista o l'aspirante tale di MMA, non sto nemmeno a ridirlo, quindi c'è l'aspetto delle percussioni che sicuramente è interessante per quanto riguarda una preparazione più completa. e più sensata per quanto riguarda uno scontro reale. Certo non è indispensabile, è stato dimostrato in tutti i modi, in tutte le maniere, messo su video in dirette nazionali, americane e intercontinentali, che i puristi di Jiu Jitsu, con un fisico modesto, quale poteva essere Royce Gracie, hanno sempre risolto nel combattimento disarmato la loro situazione in cui si erano venuti a scontrare per dimostrare il valore del loro stile. Quindi può essere utile, certo che ci vuole il tempo e la serietà per frequentare più di un corso. Già è difficile diventare bravini in una cosa nella vita. Io per esempio anni fa ho iniziato a fare Jiu Jitsu, era l'estate del 2003, che ero un istruttore di Muay Thai. Per un breve periodo ho provato a allenare tutte e due le cose, ma mi sono reso conto che già non ero un granché in una, e non riuscivo assolutamente a progredire nel Jiu Jitsu se mi dovevo dividere tra gli allenamenti di due sport. Per cui diciamo che mi tengo quel bagaglio che ho avuto 15 anni o 20 anni di allenamento di sport a colpi, nelle arti marziali basate sullo striking, e ora faccio solo Jiu Jitsu, già mi risulta difficile approfondire un'arte per volta. E la preparazione fisica all'atere, naturalmente. Quindi sì, può essere utile, però andrebbe saputo gestire. In particolare l'integrazione andrebbe inserita in un quadro più ampio, una preparazione a 360 gradi della persona. Per esempio, secondo me è del tutto folle e pensare che qualcuno che frequenta in maniera sporadica, comunque molto amatoriale, dei corsi di Jiu Jitsu, senza nemmeno arrivare mai a una preparazione di un torneo, di una competizione, andando ogni tanto a fare cucilato, magari pure softbox, da qualche parte abbia chissà quale incremento. Diverso sarebbe un allenamento di Jiu Jitsu brasiliano specifico volto a annullare lo striking. Questo è uno dei compiti che dovrebbe seguire un insegnante di Jiu Jitsu. Certo che questo tipo di allenamento è il condizionamento ai colpi, quindi rimanere impostate, chiudere lo striker e trascenarlo al suolo viene fatto poco. Lo confesso, anche nel mio team si fa poco, perché la maggior parte delle persone che fa Jiu Jitsu ha poco piacere a prendere dei pugni in faccia. Si sentono più portati per la lotta e tendono ad accantonare il problema. Io comunque glielo ricordo, cerco di fargli fare un minimo di condizionamento ai colpi sia in piedi, sia al suolo, nelle due situazioni che si possono verificare. Quindi guardia e già con l'avversario che ci ha sormontato il laterale o montata. Integrare quindi può essere utile, ma può diventare disutile se fatto a caso, senza riterio e senza una guida tecnica. In alcuni casi invece è semplicemente indispensabile. Chi vuole andare avanti nell'MMA, anche se fosse un fenomeno di Jiu Jitsu, penso a un Bucecia o un Rodolfo Vieira, sono lì a studiare lo striking. Perché è diverso il concetto di professionismo da quello di amatorialità. Questa gente ci si vuole pagare il mutuo della casa, le rate della macchina e da mangiare. Quindi non è una preparazione teorico-pratica, ma è una professione a tutti gli effetti. Integrare è importante, però va fatto bene. Quindi nel caso che si presenti le condizioni di una persona che è regolare, costante e sente di avere dei buchi nella sua preparazione, questa integrazione andrebbe fatta di concerto con l'insegnante se ci capisce qualche cosa e se no è il caso di cambiare l'accademia e rivolgersi in una dove l'insegnante è più preparato, ha più anni sulla groppa e sa come affiancare qualcosa che lui non insegna, che magari non conosce nemmeno molto bene, ha il filone del Jiu Jitsu che è il suo padre. Questa capacità di interfacciarsi con altre figure professionali, di altre insegnanti, è estremamente rara. In particolare in Italia si assiste a un delirio della personalità dove sono tutti reincarnazioni viventi di Mazinga Z, non c'è verso di avere quella mentalità dello scambio di competenze che ci dovrebbe essere tra veri professionisti. Forse perché la maggior parte di questi insegnanti sicuramente non sono dei professionisti a nessun livello. quindi l'integrazione può essere utile, deve essere gestita dal soggetto insieme al suo insegnante di Jiu Jitsu e bisogna vedere se è il caso. Sicuramente acquistare competenze e inserirle, integrarle all'interno del gioco del lottatore di Jiu Jitsu quello sì, quello va fatto. Per esempio nella mia accademia si fanno masterclass o comunque lezioni di gruppo con insegnanti sia di Judo che di lotta greco-romana che io ho selezionato e che so che hanno il cervello di seguire le mie indicazioni per quanto riguarda le esigenze dei miei atleti o comunque dei miei assistiti. Spero di aver chiarito quello che considero io le linee guida sull'integrazione. Per quanto riguarda il discorso ma mi viene rivolto spesso una delle domande che i profani fanno ah ma la lotta a terra puoi combattere solo contro uno quindi devi per forza integrare con uno stile in piedi perché se sono più persone il Jiu Jitsu è inutile. Allora, questo è un discorso che si basa molto sulla filmografia hollywoodiana e quella dei film cinese di arti marziali. L'idea è che i supereroi si mette in guardia e botta a botta sconfigge contemporaneamente una mezza dozzina di persone. Signori miei già è difficile nella vita reale sopravvivere salvare la cabeza quando uno grosso e incazzato ci attacchi. Figuriamoci diversi grossi e incazzati. In quel caso lì non è che ci vuole Jiu Jitsu ci vuole il Beretta Do lo stile della canna rigata i proiettili non si può pensare umanamente di essere in difficoltà con una persona ed è questa la realtà di un combattimento da strada ed invece di volteggiare tra chissà quante persone con i calci volanti o cos'altro. Questo non vuol dire che alcuni altri stili non siano più attrezzati in questo senso è ovvio che un pugile che si muove veloce sulle gambe in piedi qualche doppietta la mette meglio che di un lottatore di Jiu Jitsu che è portato a lottare uno contro uno e basta. Cioè nonostante anche il miglior pugile sia in inferiorità fisica e distanza e di allungo è bene che se la dia gambe o comunque straga un'arma da fuoco se è attaccato a una mezza dozzina di persone non vi fate imbrogliare non vi fate menare per il naso dal marketing di quelli che non sapendo combattere contro uno solo anche scarso e essendo costretti a ammetterlo dalla realtà di valetutto dell'MMA allora dicono no però noi possiamo combattere contro sei o sette insieme è ovviamente un'idiozia nella realtà è già tanto se si si campa un attacco portato fino in fondo da qualcuno di molto più forte e massoso di noi non contro cinque o sei o una ventina o quello che è quello che avviene nei film quindi integrare è utile può essere utile ma può essere disutile se è gestito male in alcuni casi invece è semplicemente indispensabile come penso al discorso dell'MMA professionisti o semiprofessionisti se avete domande sull'argomento come al solito vi consiglio di scrivere qui sotto nella pagina centurion o un messaggio privato cercheremo di rispondervi nella maniera migliore in cui saremo capaci di farlo e se no ci rivolgeremo a Dio delle arti marziali per l'ispirazione grazie un saluto